Grazie a tutti. Per un equivoco, un giovane italiano viene preso a botte da una decina di cittadini cinesi. I deputati Sillia e Mazzetti chiedono al ministro Salvini l'avanzamento di fascia della questura pratese. Lo storico cinema-teatro rischia di chiudere di nuovo 20 euro per il borsi, la campagna lanciata per il salvataggio. Ciclismo in festa, Giagnoni vince la tappa pratese del Giro d'Italia and bike. Buonasera e ben ritrovati a questa edizione serale del nostro telegiornale delle 20 e 30. Iniziano i lavori a Campi Bisenzio sulla Perfetti Ricasoli, ma a Prato nessuno sa niente. Lunghe code e traffico nel caos questa mattina, non soltanto nella zona est della città. Traffico in tilt stamani a Prato a causa dei lavori di asfaltatura sulla mezzana Perfetti Ricasoli, nel comune di Campi Bisenzio, dove il traffico, in direzione dei Gigli, è stato prima ridotto ad una sola corsia e poi deviato sulla viabilità circostante. Lunghe code si sono verificate nella prima parte della mattinata, sulla declassata e nella zona est della città, fino a coinvolgere anche quartieri come Il Soccorso e San Giusto. Le prime segnalazioni della situazione caotica sono giunte alla Polizia Municipale attorno alle 8 e solo in quel momento, contattando i colleghi di Campi Bisenzio, il comune di Prato è venuto a conoscenza del cantiere aperto a pochi chilometri dal proprio confine. Gli stessi automobilisti sono stati colti di sorpresa per la mancanza di segnalazioni, anche riguardo a tragitti alternativi. Il comune di Prato è corso ai ripari facendo scrivere dei messaggi sui pannelli luminosi e chiudendo il cantiere su Via Firenze, all'altezza del bar Las Vegas, in modo da consentirne la percorrenza senza sensi unici alternati e limitare i disagi nell'arteria che di fatto rappresenta un'alternativa alla Perfetti Ricasoli. L'assessore alla mobilità, Filippo Alessi, si è detto molto dispiaciuto di non essere stati avvertiti preventivamente dall'inizio dei lavori Per il futuro ci auguriamo un po' più di collaborazione dal comune di Campi Bisenzio, soprattutto quando sono previsti lavori che hanno ripercussioni anche sul traffico pratese, ha chiosato l'assessore Alessi. Pestaggio a sfondo razziale in Via Filzi, arrestati quattro cittadini cinesi, la vittima ha riportato varie ferite con prognosi di 21 giorni. Una scenata di gelosia nei confronti della propria ragazza è alla base di un equivoco che è costato al malcapitato, un 32enne italiano residente in Germania, un violento pestaggio da parte di una decina di cittadini cinesi. Secondo la ricostruzione della polizia, che ha arrestato quattro degli aggressori, l'uomo ha avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, ieri notte attorno alle 2 all'incrocio tra Via Filzi e Via Marini. Ad assistere alla lite della coppia in quel momento c'era un gruppo di cinesi che ha creduto di trovarsi di fronte a un rapinatore e lo ha colpito con violenza. Il malcapitato ha provato a spiegare che aveva soltanto litigato con la propria compagna, anch'essa italiana, ma la banda di orientali ha continuato a picchiarlo rispondendogli che quello era territorio cinese e che giovani di altra etnia non potevano sostarvi, soprattutto non potevano tenere comportamenti equivoci. Sul posto, allertata da alcuni testimoni, è intervenuta la polizia che è riuscita a identificare quattro degli aggressori i quali sono stati arrestati per il reato di lesioni colpose aggravate dai motivi razziali. Si tratta di adulti di età compresa tra i 25 e i 40 anni, tra cui anche padre e figlio, senza grossi precedenti penali. La vittima, portata al pronto soccorso, ha riportato varie ferite con una prognosi di 21 giorni. Le indagini proseguono ora per risalire agli altri responsabili del pestaggio. Intanto, nella direttissima di Stamani, gli arresti sono stati convalidati, ma in attesa del processo, rinviato per i termini a difesa, i quattro cinesi sono tornati in libertà. Il pestaggio ai danni di un italiano residente in Germania mentre litigava con la sua fidanzata da parte di un gruppo di cinesi in pieno macrolotto zero deve far riflettere, non poco. Così il capogruppo in consiglio comunale di Prato, Libera e Sicura, Aldo Milone, interviene sulla vicenda. Prima si era soliti dire che gli atti di violenza avvenivano soprattutto tra cittadini orientali e mai contro italiani. Questo episodio, mi dispiace dirlo, è un segnale preoccupante. La loro affermazione, questo è un nostro territorio, sta a significare che ormai quella zona di fatto la considerano solo cinese. Mi auguro che questo gravissimo episodio non venga sottovalutato, conclude Milone. Sperimentazione del taser in dotazione alla polizia e avanzamento della fascia di appartenenza per la questura pratese è quanto chiedono i deputati forzisti Giorgio Sigli e Erika Mazzetti per la nostra città in un'interrogazione rivolta al ministro dell'Interno Matteo Salvini che giunge dopo il grave pestaggio a sfondo razziale di una decina di cittadini cinesi nei confronti di un 32enne italiano di cui abbiamo appena parlato. Sperimentazione della pistola elettrica in dotazione alla polizia e avanzamento della fascia di appartenenza per la questura pratese è quanto chiedono i deputati forzisti Giorgio Sigli ed Erika Mazzetti in un'interrogazione rivolta al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Interrogazione che arriva proprio dopo l'ennesimo episodio di violenza che si è registrato a Prato, il pestaggio a sfondo razziale di una decina di cittadini cinesi nei confronti di un 32enne italiano avvenuto ieri sera verso le 2 all'incrocio tra Via Filzi e Via Marini. Vedendo i dati sulla criminalità in città e facendo riferimento all'attività svolta delle forze dell'ordine, Sigli chiede dunque delucidazione al ministero in merito alle tempistiche per la promozione della questura di Prato dalla fascia C alla fascia B così da garantire una maggior sicurezza e frenare l'escalation di atti di violenza. Ma non è tutto, il deputato di Forza Italia chiede infine al ministro Salvini di poter sperimentare anche a Prato, così come avverrà nelle prossime settimane in altre 11 città italiane la pistola elettrica, un'arma non letale nella speranza di ridurre così i rischi per l'incolumità personale delle forze dell'ordine e gli episodi, sempre più all'ordine del giorno, di criminalità e microcriminalità. Il titolare del Viminale e il suo sottosegretario dovranno a questo punto riferire alla Commissione Interne, Sicurezza e Migrazione della Camera dei Deputati di Cusilli e Componente. Torniamo a parlare di sperimentazione 5G, ancora a Prato, scelta come territorio su cui nascerà un centro di competenze al servizio delle imprese manifatturiere e del settore dell'audiovisivo. Stamani la firma del protocollo istituzionale. Proporre un progetto per la creazione di un centro di competenze impresa 5G in grado di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero competenze, soluzioni e servizi con la nuova generazione della tecnologia per le telecomunicazioni. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Comune di Prato e Fondazione Ugo Bordoni, firmato a Firenze dalle tre realtà. Un passo in avanti per la città laniera, già individuata dal Mise come luogo di sperimentazione precommerciale del 5G, insieme a Milano, L'Aquila, Bari e Matera, sul quale lavoreranno Win3 e OpenFiber. È un tentativo di declinare la straordinaria potenzialità delle connessioni messe a disposizione dalle nuove tecnologie nel sistema produttivo della nostra regione e in particolare, se riusciamo, nel sistema produttivo tessile. Non solo nel sistema produttivo, ma lo faremo anche con la cultura in ambito di manufatture digitali, cercando di mettere a sistema ciò che questa straordinaria dimensione di comunicazione oggi può offrire alla tecnica. Non è un mero potenziamento, è anche un potenziamento delle attività che noi facciamo quotidianamente con i nostri smartphone, ma è molto di più, è in grado di cambiare davvero le nostre abitudini per la capacità e le potenzialità che ha, applicarla alle piccole e medie imprese del tessuto manifatturiero pratese e da lì poi farlo diventare un modello per il resto del paese. Certo è che per il vantaggio competitivo questo è un grandissimo passaggio perché noi partiamo per primi. Il progetto concorrerà al bando del Cipe che riserva alle regioni che ospitano le cinque città pilota a 60 milioni di euro. In merito ai prossimi step previsti dal protocollo, sottoscritto a Palazzo Strozzi Sacrati, sarà costituito un gruppo di lavoro coordinato dalla regione, composto da sei persone, due rappresentanti per ciascun firmatario che si occuperà di redigere il progetto. La fondazione farà quello che è nella sua mission, che è quella di supportare la pubblica amministrazione nei processi innovativi. Il progetto, il centro di competenze che vogliamo realizzare si prefigge proprio questo complice, quello di riuscire a creare grande sinergia, a trasferire a tutto il settore l'innovazione tecnologica che il 5G porta a portare a Tore di Sede. Penso sia un progetto innovativo e penso che possa diventare anche un modello per altri territori. Non solo, come avete sentito, tessile e moda. La ricerca del 5G procederà anche nel campo dell'audiovisivo e nel settore cinematografico. Un'altra punta di eccellenza su cui il distretto pratese investe per il futuro. Sentiamo le interviste. Prato farà scuola nel settore dei servizi alle imprese in tema di 5G e anche nel settore dell'audiovisivo. Sì, proprio in continuità con il progetto delle manifatture digitali che sta avendo un grandissimo successo dove appunto quella che è la vocazione di Prato, della manifattura, del tessile è stato appunto reinterpretato in chiave tecnologica avanzata. Bene, a questo punto vogliamo andare oltre e andiamo oltre con il 5G e in particolare nel settore dell'animazione applicando questa tecnologia appunto all'animazione che è un qualcosa che serve in generale all'audiovisivo al cinema ma anche a tanti altri comparti industriali. Se voi ci pensate, alcuni premi recenti molto prestigiosi li abbiamo presi per dei prodotti d'animazione e inoltre un sacco di talenti, di giovani creativi italiani sono in giro per il mondo con le loro capacità perché in Italia c'è stata una domanda intermittente sull'animazione. Beh, noi li vogliamo richiamare, li vogliamo richiamare in un centro dedicato a questo, a Prato. vogliamo cominciare ad applicare anche all'animazione quella modalità di lavorare in forma di bottega rinascimentale, maestri che producono qualcosa insieme a gente di talento ma ancora giovane nella professione. E in questo senso il 5G è formidabile perché i prodotti d'animazione richiedono un'infinità di lavoro e di competenze. Lo scautismo pratese piange la morte di Roberto Fedi, nato a Prato 78 anni fa, ha legato il suo nome al movimento scout cattolico fin da ragazzo e non l'ho mai abbandonato, neppure quando è andato in pensione. Anzi, negli ultimi 30 anni ha contribuito in prima persona a realizzare la base scout all'Alpe di Cavarzano nel comune di Vernio, dove generazioni di ragazzi sono andati a fare campi e uscite in tenda. Fedi è morto nella prima mattinata di ieri all'ospice Rosa Giorgi, dove era ricoverato da qualche giorno. Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute erano peggiorate, oggi pomeriggio sono stati celebrati i funerali nella chiesa di Santa Maria della Pietà. Ci spostiamo a Firenze, dove questa mattina è stata inaugurata la nuova linea Leonardo della Tramvia, che attiva da questa mattina alle 5.38, trasporta le persone lungo il tragitto dalla stazione ferroviaria al grande presidio ospedaliero di Careggi, un servizio di grande utilità anche per i pratesi che si spostano a Firenze, in particolare per raggiungere il policlinico. Centinaia di persone negli spazi antistanti l'ospedale di Careggi hanno preso parte all'inaugurazione della nuova linea T1 Leonardo della Tramvia, che trasporta le persone lungo il tragitto dalla stazione ferroviaria al grande presidio ospedaliero del capoluogo. Tra i partecipanti alla cerimonia, oltre al sindaco Dario Nardella, anche l'ex ministro all'infrastruttura Graziano Del Rio e l'ex viceministro Riccardo Nencini, oltre ai parlamentari Rosa Maria Di Giorgi e Gabriele Toccafondi. Nardella ha definito la giornata indimenticabile, quattro anni per realizzare il tram è un tempo europeo e quasi un record italiano, ha ribadito il sindaco. Presente all'iniziativa anche l'arcivescovo e cardinale Giuseppe Betori, che ha poi benedetto la nuova linea. La tramvia è importante per Firenze, per i fiorentini, ma è importante per tutti i toscani che arrivano ogni giorno a Firenze per andare a lavorare o magari per andare a Careggi per questioni sanitarie. E allora trovare nel momento in cui scendono dal treno o dal bus un mezzo che in maniera confortevole e sicura in tempi certi li porta a Careggi è veramente un risultato eccezionale. Le prime due settimane di servizio sulla nuova linea, per la quale sono stati assunti tra l'altro 40 nuovi autisti, ha detto il sindaco Nardella, saranno gratuite. La linea T1 Leonardo collega Villa Costanza a Careggi ospedale con un tempo di percorrenza di 40 minuti. La frequenza sarà di 4 minuti e 20 secondi e le corse 500 al giorno. Si stimano 20 milioni di passeggeri all'anno, una riduzione di CO2 pari a 12.500 tonnellate all'anno e 9.300 auto in meno in strada ogni giorno. E da alto canto la mobilità sostenibile si compone di questo, di mezzi fortemente integrati tra loro, treno, tranvia, gomma, bicicletta che sono al servizio del cittadino che sempre più speriamo di invogliarlo a sceglierli perché soltanto con il mezzo collettivo si riesce a combattere l'inquinamento, si riesce a combattere la congestione del traffico nelle nostre città. Ance Toscana Nord, preoccupata per la situazione che sta coinvolgendo alcune imprese associate subappaltatrici di grandi lavori Fincosit, la ditta segnataria dei lavori per la costruzione della linea 2 della tranvia di Firenze, azienda che ha fatto domanda di concordato preventivo e che da mesi non paga le ditte subappaltatrici. Tra queste anche le pratesi Varvarito Lavori e Consorzio Stabile GST che di conseguenza stanno vivendo un periodo di crisi. La scia del blocco dei lavori per la realizzazione della linea 2 della tranvia di Firenze culminata con la domanda di concordato preventivo presentato dalla ditta Grandi Lavori Fincosit sta creando disagi anche alle aziende pratesi, preoccupate adesso per il proprio futuro. Nello specifico sono coinvolte due aziende subappaltatrici locali la Varvarito Lavori e il Consorzio Stabile GST imprese associate ad Ance Toscana Nord che insieme a Calenzano Asfalti, Iacini SRL e Fratelli Massai hanno rispettato le scadenze relative alle spettanze dei loro lavori ma sottolineano come in futuro non potranno più sostenere spese senza prima aver incassato i lavori eseguiti quasi un anno fa. A sostegno delle imprese si è schierata anche Ance Toscana Nord preoccupata per la vicenda che ha ribadito che appoggerà le loro ragioni così che l'amministrazione fiorentina e la società concessionaria Tram intervengano per sbloccare al più presto la situazione proseguendo le opere fino al loro completamento e disponendo il pagamento immediato dei lavori realizzati dai subappaltatori. In un'opera pubblica così importante, ha spiegato in una nota il presidente di Ance Toscana Nord Stefano Varia, non è concepibile che si possano avere situazioni di questa gravità in cui vengono penalizzate imprese che effettivamente lavorano. Le aziende subappaltatrici infatti, nonostante il blocco dei pagamenti da mese e mese hanno proseguito le loro attività in cantiere, accollandosi perciò ai costi dell'esecuzione e resistendo fino a quando non è partita la procedura concorsuale. Ance Toscana Nord ribadisce quindi infine il piano appoggio a difesa dei diritti delle imprese e della dignità dei lavoratori. Mercoledì 18 luglio sarà sospesa l'attività di prelievo di sangue per pazienti esterni in tutte le strutture dell'ASL Toscana Centro, compresi il giovanini e gli ambulatori pratesi. Sarà garantita in tutte le sedi dei laboratori aziendali l'attività interna in urgenza e quella per i ricoveri ospedalieri, oltre alle richieste urgenti provenienti dalle sedi territoriali. La sospensione dell'attività si è resa necessaria a causa dell'impegno di circa 60 tecnici di laboratorio nello svolgimento del concorso pubblico regionale ESTAR previsto per il 18 luglio. L'azienda sanitaria si scusa per eventuali disagi. Voltiamo pagina. Nuova data per i provini di arte in scena, la scuola di musical del Teatro Politeama che coltiva giovani talenti. Ecco tutti i dettagli del prossimo anno accademico. Arte in scena, la scuola di perfezionamento di musical del Teatro Politeama, diretta da Simona Marchini, scalda i motori per il nuovo anno accademico 2018-2019. Le audizioni si terranno domenica 14 ottobre alle 14 al Teatro Politeama, alla presenza dei direttori della scuola e dell'intero corpo docenti. Le iscrizioni sono aperte a tutti i ragazzi, italiani e stranieri, che abbiano compiuto il 14esimo anno di età, il limite massimo, e di 35 anni. Per accedere alle selezioni è sufficiente inviare foto, curriculum e contatto ad arte in scena a chiocciolapoliteamapratese.com. Al provino il candidato porterà a sua discrezione una, due o tutte e tre le discipline, ovvero recitazione, canto e danza. Il Teatro Politeama Pratese offre inoltre quattro borse di studio da destinare ai migliori quattro classificati delle selezioni. Le lezioni avranno cadenza quindicinale, il sabato e la domenica, ogni due settimane, per un totale di 32 ore mensili, da novembre 2018 a maggio 2019, al Teatro Politeama. A fine corso gli allievi realizzeranno uno spettacolo che andrà in scena sul palcoscenico Pratese. Sono stati moltissimi i talenti lanciati negli ultimi anni d'arte in scena, nata nel 2000 grazie a Roberta Betti, presidente del teatro, e a Lamberto Muggiani, che ne è presidente. Tra questi il giovane cantautore Giovanni Caccamo, vincitore della 65esima edizione del Festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte. Il giovane Stefano Simmaco, ballerino ma anche cantante e attore, vincitore del reality Forte 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 e insegnante della scuola. E già è Andreotti che si conferma una delle più grandi e giovanissime professioniste italiane. Ha aperto da meno di un anno, ma il Cinemateatro Borsi, storica sala della nostra città, rischia di chiudere di nuovo. La nuova stagione è alle porte, ma mancano i fondi per pagare una parte dei lavori già effettuati. Daniele Grigio, il gestore del Borsi, lancia un appello a tutta la cittadinanza. 20 euro per il Borsi, è la campagna di raccolta fondi lanciata per garantire la sopravvivenza del Cinemateatro Borsi, che grazie anche alla collaborazione della diocesi proprietaria del fondo, ha visto chiudere con segnali positivi la prima stagione artistica dopo la riapertura. Le difficoltà sono emerse in seguito alle spese relative ai lavori di ristrutturazione dello spazio, lavori necessari per la realizzazione del nuovo Borsi. Da parte delle istituzioni e dei privati è venuta infatti a mancare una parte delle coperture economiche inizialmente previste nel progetto. Il presente ha delle difficoltà, difficoltà economiche create dalla costruzione dei lavori, cioè l'ampliamento del palcoscenico e la costruzione dei camerini. Abbiamo fatto questi lavori non avendo la copertura economica. Dici, ma perché l'avete fatto? Perché senza questi lavori non si sarebbe potuta fare la stagione. Una delle cose per cui il Borsi deve avere un futuro, cioè quella di offrire un palcoscenico al talento, ai giovani talenti. Nessun teatro in Italia si regge senza contributi pubblici e privati. Se io entro il 31 maggio 2019, non troverò in Prato una cordata pubblica e privata che mi garantisca il 50% del fabbisogno del teatro, stiamo parlando di 35, massimo 40 mila euro, io purtroppo dovrò rinunciare a questo progetto e dovrò dire il Borsi chiude. Per lanciare un segnale è emersa anche l'idea di formare una lista civica culturale con cui presentarsi alle prossime amministrative pratesi. Una lista civica che si chiamerà lista per la cultura. Credo ci sia necessità in questa nostra epoca di riaccendere una lampadina, di riflettere insieme, di ragionare su che cosa sta succedendo nel mondo dello spettacolo del vivo che sta soffrendo, anche se non appare. Sport e calcio in attesa del passaggio ufficiale di proprietà inizia a prendere forma il nuovo Prato. Il direttore generale sarà il talent scout canadese Marcos Anthony Seriou, conferma per Gianni Califano nel ruolo di direttore sportivo. Ecco svelato il nome del nuovo direttore generale del Prato. È in arrivo in città il manager canadese Marcos Anthony Seriou, al quale il presidente in pectore, Joseph Romano, affiderà il ruolo di direttore generale dell'associazione Calcio Prato. Il dirigente canadese ha esperienza nel mondo del calcio ed ha operato in Canada come talent scout. Nei prossimi giorni Seriou incontrerà il segretario bianco-azzurro Alessio Vignoli, oltre al direttore sportivo Gianni Califano, con il quale c'è già stata un'intesa telefonica, e il responsabile del settore giovanile Matteo Silvestri. Il Prato ripartirà con la programmazione per la prossima stagione, senza stravolgimenti, puntando su dirigenti che conoscono bene l'ambiente e possono aiutare la nuova proprietà a prendere visione e conoscere nel dettaglio la società bianco-azzurra, una scelta dettata dal buonsenso. Mentre Seriou, Califano, Silvestri e Vignoli cominceranno a costruire il Prato del Futuro sotto il profilo sportivo, cominciando a valutare profili di allenatori. In pole position c'è l'ex tecnico del gavorrano Giancarlo Favarin, ma anche di giocatori che possono essere funzionali al progetto sportivo di rilancio della formazione laniera, mentre il presidente Inpectore, Giosef Romano, sta muovendosi, grazie anche al lavoro del proprio referente pratese Giuseppe De Luca, per trovare le garanzie economiche richieste da Paolo Toccafondi nel preliminare vincolante di vendita. La partita della famiglia Romano si gioca su due tavoli, uno per chiudere la partita economica con Toccafondi sui crediti maturandi nella vecchia gestione, l'altro invece per reperire la somma a fondo perduto, 300.000 euro, e la fideossione necessaria, altri 300.000 euro, per la richiesta di ripescaggio in Serie C. Il termine ultimo fissato da Toccafondi per la soddisfazione delle proprie richieste è il 23 luglio, mentre quello fissato dalla Lega di Serie C per le domande di ripescaggio termina il 27 luglio. Insomma, una corsa contro il tempo, in un mese di luglio che si preannuncia davvero frenetico per Joseph Romano e tutti i suoi collaboratori. C'erano tutti i suoi ragazzi di ieri e di oggi, con gli occhi lucidi e tanta commozione. La chiesa di San Bartolomeo di Piazza Mercatale era gremita questa mattina per dare l'ultimo saluto allo storico magazziniere del Prato, Beppe Medico. Nella chiesa era rappresentata la storia del Prato degli ultimi 20 anni, giocatori, allenatori, dirigenti, tifosi e giornalisti. La chiusura della cerimonia funebre con lo striscione affisso fuori dalla Basilica dai tifosi biancazzurri che recitava Una vita in biancazzurro, adesso tifa dall'assù. Ciao Beppe! Grande weekend di ciclismo a Prato. Partiamo da sabato con l'handbike. Cristian Giagnoni ha vinto la tappa pratese del Giro d'Italia e ha conservato la maglia rosa. Doveva essere la giornata di Cristian Giagnoni e così è stato. Il campione pratese specialista handbike si è imposto da campione qual è nella terza tappa del Giro d'Italia, non a edizione. Dopo Abano Terme e Cassino, Cristian ha dominato anche nella prova a Casalinga, corsa su un percorso di 3,5 km interamente cittadino senza nessuna difficoltà. La gara messa in scena dall'amministrazione comunale con il grande lavoro del collega Vezio Trefoni ha visto una partecipazione di pubblico di grande interesse. Logicamente insieme a tutti gli sportivi il sindaco di Prato Matteo Biffoni affiancato dal vice Simone Faggi e dal consigliere della regione toscana Nicola Ciolini. Tornando alla corsa, Cristian Giagnoni infiammava questa sotto tutti i punti di vista attaccando subito in partenza con altri cinque primatori. Lo sloveno Creuzzi, il brasiliano Maiko Daconsensao Cagas, Damiano Morini, Vito Lascaro e Mauro Cratassa. I sei battistrada imponendo un ritmo davvero frenetico che metteva a dura prova tutti i concorrenti. Anche fra i fuggitivi si cominciava a sentire la stanchezza. Infatti nelle ultime due tornate si staccavano Vito Lascaro e Mauro Cratassa. Quindi volata a quattro con Cristian Giagnoni, superlativo, che superava lo sloveno Creuzzi, il brasiliano Cagas e Morini. Al termine della terza tappa Cristian Giagnoni sempre più rosa. Sì, maglia rosa sempre più rosa e poi noi quando si prende siamo gelosi delle cose, sicché non si lasciano. Sì, più che atleti, sono anche amici giustamente quando la gara è fatta regolare. Poi alla fine se uno si mette la mano sulla coscienza ho tirato su sempre io, quindi alla fine è giusto così, se no il gioco diventerebbe anche scorretto, come loro. Dopo il passaggio del Giro d'Italia Handbike, l'affermazione di Cristian Giagnoni, ieri è stata la volta della 37esima Prato a Betone. Fine settimana ad alta intensità con il ciclismo nella città laniera. Dopo il grande successo di sabato con l'handbike, domenica è toccato alla Prato a Betone, 37esima edizione. Un evento amato, apprezzato e conosciuto non solo dai pedalatori toscani, ma anche da tante persone che sono arrivate da fuori regione. 400 i partecipanti per la gioia dello storico organizzatore Silvano Melani, che con il fido Vezio Trifoni ha ridisegnato in formula cicloturistica l'appuntamento classico, giunto quest'anno alla 37esima edizione. Poi, ancora una volta, grande sinergia con il comune della Betone, che ha atteso con i mercatini estivi e con la nuova collocazione dell'arrivo i partecipanti a questa bellissima manifestazione. Quindi, successo pieno anche nel 2018 con la Prato a Betone. Vedete, insomma, fa partire questa edizione della Prato a Betone, così cicloturisticamente come era una volta, sta diventando un divertimento. Non c'è quello stress che è stato in quel periodo di anni che eravamo fuori giri. Ebbene, siamo ritornati al naturale. Così al naturale noi si potrebbe riproseguire. La giornata è stupenda. Io credo anche per questi ragazzi, queste centinaia di ragazzi che si apprestano ad andare su per la Betone, beh, sia una grande giornata e un bel divertimento. Per la cronaca, le squadre con più partecipanti sono state Agliana, Ciclismo, Ciclissimo Bike, Team Nencini, Abis, Verag, Ciclistica, Viaccia. Per la cronaca, sempre l'incasso, parte dell'incasso, sarà devoluta all'ospedale pediatrico Meier. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi, tra poco l'agenda e il meteo. E' il momento della nostra agenda per andare a scoprire tutti gli appuntamenti in programma a Prato e dintorni. Domani, martedì 17 luglio, alle 18.30, alla Biblioteca Comunale Aldo Palazzeschi di Seano Aperibook, un aperitivo tra le righe. Aperitivo e presentazione del libro Acquafonda di Dario Lunardi. In serata, in Centro Storico a Prato, Mai Prato Weeks, quinto appuntamento con lo shopping serale e iniziative varie. Sempre in serata, i Giardini di Sant'Orsola, Arem, a cura di Andrea Lenzi e Claudio Capitoni. Alle 21, al Giardino Buonamici, Filarmonica Giacomo Puccini, concerto nell'ambito del Festival Musicale Pratese. Al Parco di Villagia Maria Montemurlo, alle 21.15, Montemurlo e Musical, con gli allievi della Scuola di Musica e canto della Filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 21.30, la Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzarini, Aiden Yacht String Orchestra, concerto nell'ambito del Festival delle Orchestre Giovanili. Alle 21.30, nel Chiostro della Chiasa di San Michele Arcangelo a Carmignano, left saxophone quartet in concerto. ingresso offerta libera, il ricavato sarà devoluto per il restauro del complesso parrocchiale. E infine, alle 21.45, al Castello dell'Imperatore, Sela V, prendila come viene, proiezione del film. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. Questa è la situazione sinottica prevista per le ore centrali della giornata di domani. Possiamo vedere come sul Mediterraneo centrale per domani sia previsto un nuovo aumento della pressione e questo determinerà un generale miglioramento. Passiamo subito a vedere quindi la previsione per la giornata di domani, martedì. Vediamo ancora qualche residua precipitazione a carattere di rovescio, nel deprimore del mattino sulle zone interne orientali. Altrove, condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso, con schiarite molto ampie sulle zone costiere. Nel corso del pomeriggio, ancora cielo poco o parzialmente nuvoloso, non si esclude tuttavia ancora qualche occasionale rovescio sui rilievi meridionali e sull'alto appennino. Le temperature sono attese in diminuzione nei valori minimi, stazionare in quelli massimi venti di maestrale fino a moderati sulle zone costiere, con mari anche mossi, in particolare nel pomeriggio. Passiamo a vedere la tendenza per la giornata di dopo domani, una giornata caratterizzata da prevalenti condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento, sia nei valori minimi che in quelli massimi, con temperature che ritorneranno intorno ai 33-34 gradi come valori massimi. Con questo dall'Amma è tutto. Il telegiornale termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione è per domani alle 13.45. Restate con noi. Tra poco chiedilo al sindaco l'appuntamento consueto con il primo cittadino Matteo Biffoni e a seguire la partita storica del Prato-Bologna 94-95 e direttamente dall'archivio storico di TV Prato. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Grazie per essere stati con noi.